EXPEDITIONS ROME Ehi la ciurma io sono la mazzettessa e ben ritrovati qui su EXPEDITIONS ROME Sì vabbè voglio parlare con lo sciolano lasciami E ci sono delle parole sagge qua e poi protegge dal veleno Ha senso Io ho una cura contro il veleno Devi essere preparato Scusate? Ehm va bene E' una scelta giusta La tua vita potrebbe non essere misurata con denari Ehm tutto questo Dov'è che va? Ah ma il vinegar serve per le bende Ok Ha senso Mentre invece lui ci ha dato L'antiveleno Sì abbiamo speso un sacco di soldi per roba che non ci serve sempre il crafting Vabbè Ma vediamo cosa c'è qua dentro C'è altro da Dei pescherecci Dei pescherecci Scrap trader Scrap trader Will Wintner è quello che abbiamo incontrato prima Questo ci abbiamo già parlato Allora Allora Non è tutto sovrafatto di farlo Un' scuola di metal Io lo so Ehm Va bene E questo qua Cosa dovrebbe interessarmi? Oh Tools per javelin Sì Sì Ehm Uh Ne ha un sacco di tools per javelin Vai Ehm Questo è il metto 5 denari 5 denari Sì Sì Ehm Weighted blades Cosa servono? Non lo so Nel doppio che prendo quattro Ehm Giovele non è più Nel doppio che prendo quattro Ehm Giovele non è più Ehm Ehm Giovele non è più Stavamo guardando qua Dove è che si sale Per andare su Dobbiamo passare Di qua Ehm No Chi è che c'è qua sotto? Ci abbiamo parlato con questo Mi sa di no Gulus Ah no infatti C'è anche un Un forziere là Che abbiamo missato Mmm Cosa fai se è un venditore? Quindi vedi cibo? Ok E da dove viene? Va bene Quindi cosa vendi? C'è qualcosa che puoi vedere nelle mie strade Le spezie più particolari E ovviamente Le migliori servizi che Nazemones ha di offrire C'è che bisogna? Non ha molte razioni, vediamogli un po' di razioni Lui ci rifacciamo un po' di soldi Chissà che abbiamo speso un sacco qua per prendere roba varia Coin box Poi farei che... No, per dov'è che si sale? Di qua si sale No, non ha importato C'è il tesoro qua nascosto Riusciamo a... Gattaiolare da andarla appena di... Sì Perchè c'è ancora da salire Ovviamente invece non è... Eh? L'improve di scutum Ok Ah, del cibo E' un berberbow Però fa schifio Lo buttiamo Eh... Lino per fortuna avrebbe consumato un po' per quelle bende che abbiamo craftato per sbaglio al passo di usare il free refill Qualc'altro? C'è roba là dietro, non devi prendere la roba là dietro prima di andare a parlare con la gente E qua cosa c'è? Questo altarino? Ha un piccolo coso di medicina, va bene Questo è un onore essere qui È un onore essere qui In order a secondare, our talks can begin in earnest I have told you all of the upcoming War Of the possibility of Nozamines being trapped between Roman legions, and Egypt And I have explained the potential advantages of an alliance with the Romans gekacizá Now is your time to ask your questions about our proposal I'm sure many such questions burn your tongues Perché non c'è nessuno parlato? Hai perduto le vostre voce? Siete tutti freddi del grande Romano? Cosa! E' quello che sei! Sei un salpivo di Nazamonese! È solo tu che salpiamo davanti di questa giornata, Maxam Ma non ciò non si può parlare da te superi, ma non è capito di te saprare Qui confie il courage da l'incolente Non si è davvero vrei, ma è unilizia per insultare i te scopri Non si adrovi l'unico che ha sempre di restare Non si è davvero vrei e domani? Beh, ho anche che sono Io ho consideredo Nazamonese once Sono regalati Egypte e possibili myriad lands, le nomi di cui non posso mai pronuncio. Uno sarebbe un pollo, non per farlo di romanzo. Rai a te romanzi maestri con te le due i piedi, then, Medur. I shall stand and fight, and if need be, die defending my people. Warmak-san, Medur, know yourselves. I ancestors are watching, do not disrespect the court. How many troops do you need, Roman? 5.000 slaves, in other words. Ho bisogno di 500 persone che verranno appagate per il loro servizio a Roma. Tipico di romanzi. Senti che la loyaltà è solo un'altra cosa che puoi comprare? He is afraid. I fear nothing. The Roman is afraid. Am I wrong, Roman? There is no way you can advance towards Egypt without our help. You can wait for your masters to send you reinforcements. But by then, it will be already too late. And what if we refuse helping you? It is not conquest you are seeking. You are trying to survive. Are you not? I am at the current rate of my mortality, and for that I do not have fear. Fear is not a cure for death. And I grant you that your words are wise. In your acceptance of death, you conquer your fear thereof. Unfortunately, I cannot strike a deal with a man who may be dead tomorrow. And if you die, who will take your place? Who will uphold your end of our arrangement? Hmm, primo Spilus della mia regione se ne occuperà. Good. A clear line of succession guarantee some measure of stability. You have my support. You weak-minded fool! You excrement of a drunken horse! The presence of this foreigner alone is an insult to the ancestors. I should slit your throat where you stand. Control yourself! He may have a temper, but he is right. You know that too. The court of heaven is for us only. I can already feel the disapproval of the ancestors. Can you now? Very well. Let us consult the ancestors then. Have you lost your mind, Izzil? Are we not disgraced enough? Will you allow this foreigner to desecrate the resting place of our ancestors with his presence? That is highly unusual. I don't think the ancestors would approve. That is something that the ancestors can tell us themselves, is it not? Fine. But let it be known that I'm not happy. As usual. It is settled then. We consult the ancestors. The ancestors. Ah, dobbiamo andare al civitero. Ok. Più che altro siamo saliti per direte tutti di livello qua nel mentre. Andrea, ha questo che è stunno. Che può essere molto buono. Protetti sono più protetti. Vada. Sì, però scusate che ho il Poisoner. Oppure Interference. Vada. Bene. Giulia e Calida le diamo. Buono. Ah, quanti ne abbiamo? Degli questo che ripara lo scudo. Diamogli questo. Diamogli questo. Diamogli questo. Questo. Ah, bellissimo il fatto che applica. Instancabile a se stesso. Ah, per lui non possiamo aumentargli la cosa. Ci hanno dato Weighted Blades e Javelin Tools. Ok, che è molto comodo. Abbiamo anche dei consigli lì che possiamo dare ai tizi che ancora non avevano. Allora, tipo questo. Allora, cos'è che è? Health Movement, Critical Damage. Fai. E qua gli diamo Health Movement. Che al vele si può servire di più. Eeeh. C'è andato. Nosciamare X Staff. L'elvetto di Ispire Africana. E' migliore, lo mettiamo. Eeeh. Ah, questo è il migliore? No. Eh, per ora chiudiamo. Vediamo un attimo con cicelonia. No, nulla di questo ci interessa, ovviamente. Eh, non c'è bisogno di scusarsi, capisco. Viste le circostanze mi aspettavo più... Eeeh. Più chiusura, insomma. Ahahahah. Mi piace il tuo senso di umore. Allora penso che qualcuno mi debba scegliere cosa è successo qui. Nell'absence di una decisione significativa, abbiamo deciso di consultare gli Ancestori, come sempre. Rupendarei a la criatura del burio e insipere in la tomba di un Ancestor che, in invadere, appena con te in ospia e riferire il tuo destino. Facciamo tutti lo stesso. Credo che i nostri Ancestori dicano se dovremmo supportarti. Eeeh. Sono onorato di partecipare a questa cerimonia. La mia carida Ok, ci vittiro qua Sì, dobbiamo proprio andarci nell'altra parte Va bene Ho detto questo, direi che possiamo salutarci per questo episodio Vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto Iscrivetevi per questo video già fatto Ciao a tutti, buona giornata Grazie